Chia ora! Benvenuti alla prima lezione di dichiarazioni descrittivi Oggi impareremo a descrivere cose utilizzando la parola HE Per fare questo, HE comincia la frase Poi mettiamo la descrizione Però, per esempio, che significa rosso Finalmente, mettiamo la cosa che descriviamo Significa la sedia La sedia è rossa Se parliamo di più di una sedia, dobbiamo solo cambiare Le sedie sono rosse Il resto della frase non cambia Per descrivere una sedia più specifica Possiamo utilizzare TENAI Che significa questa Questa sedia è rossa In questo caso, per descrivere più di una sedia Lasciamo cadere la T di TENAI Che ferro Queste sedie sono rosse È importante notare che la descrizione Segue sempre la parola HE E la cosa che descriviamo Va sempre alla fine della frase Quando diciamo Questa sedia è rossa Questa sedia è la cosa E rossa è la descrizione Che ferro Questa sedia è rossa Se voleste dire Questa è una sedia rossa Sedia è rossa Sedia rossa Sarebbe la descrizione E Questa sarebbe la cosa Questa è una sedia rossa Facciamo un po' di pratica Mentre impariamo alcune nuove parole TETEI Significa ALTO RAKO Significa ALBERO L'albero è alto Gli alberi Sono alti PO TO Significa BASSO TANE Significa UOMO Come si dice L'UOMO È BASSO e come si dice? gli uomini sono bassi e poto nga tane reka significa delicioso kai significa cibo questo cibo è delicioso questo è cibo delicioso makariri significa freddo inu significa bevanda come si dice? questa bevanda è fredda e makariri tenei inu e come si dice? queste bevande sono fredde e makariri e nai inu come si dice? questa è una bevanda fredda e inu makariri tenei e come si dice? queste sono bevande fredde bene, tutto qui adesso sapete descrivere le cose in maori kakite